Allora, siamo con Valentino che è uno degli ultras di Ubino. Ecco, voi vi va il merito che fate tanti chilometri per andare in trasferta. Noi raggiungiamo la squadra ovunque e siamo sempre dietro la squadra, ovunque vada. Noi siamo nell'Italia centrale, quindi per noi è sempre una trasferta molto lunga. Sempre un impegno molto gravoso, però la gran passione è che riusciamo ad andare ovunque. Ecco, vi ho visto anche l'andata dove la squadra non andava bene, però nonostante tutto, vi ho visto a Villa Cortese, nonostante tutto eravate numerosi. Noi sempre, male o bene che vada la squadra, noi siamo sempre con la squadra. La passione ci unisce sempre e ovunque. Ecco, Busto è un campo abbastanza difficile, non lo dico io, lo dico nei risultati. Quali sono le previsioni per oggi? Beh, certamente noi veniamo qui per vincere. Sicuramente le ragazze ce le metteranno tutte, siamo sicuri. Poi vediamo un po', quello che avviene, viene. Però io sono convinto che le ragazze faranno un'ottima partita oggi. Ecco, voi avete avuto in questi ultimi periodi un buon rinforzo. Oltretutto, io non lo sapevo, ho visto in campo anche Crisanti. Sì, Lucia ancora non è pronta, però ha cominciato a allenarsi con la squadra e dovremmo aspettarla per i play-off, almeno speriamo. Anche perché è una espus d'occa. Esattamente, sì, sì. Però oggi credo che sia difficile vederli in campo. Grazie.